Grazie Evo, ho provato con Vukot e Ljubom Kronić, con la presenza di Svukština Accionaria. Mi chiamano che non si può. Abbiamo un puno. Abbiamo un valide, un papir. Vite che ci sono un po' di tempo. Alla prossima sono detto che Vukota e Ljubo Kronić possono, ma Vukan non si può. Non mi sono più informazioni, ma sono sempre di direzione che non mi chiede da puste, ma non mi sono più ovinci, non mi sono mai potuto andare in sredično di hidroelektionali trebi, è stato un pochettivo che non mi sono più ovo, ma io sono il posto di sredični, ma che sono il posto di posto di hidroelektionali trebi, mi sono dovuto essere più ovo, ma non mi sono più ovo, ma non mi sono più ovo, ma sono più ovo, ma io sono il posto di sredični, l'inverno sono un'aggiurazione, l'inverno è una voce di diritto, ma anche il modo che i l'inverno sono comunque un'identità di potremmo di potere, ci sono di pensare che non sono stati perché non sono voluto fare un incidente, non sono stati di fare un incidente, non sono stati di fare un incidente perché sono stati l'inverno e l'inverno e ci sono stati domande, ma l'inverno che siano e ci sono stati di fare un'oplatza, un'oplatza che mi sono stavolta, ma la lice del regime che mi sono lavorando.